Vai, vediamo qua, è arrivato Rod il gelataio, è arrivato Rod, eccolo lì, guardate, pronto per congelare tutti quanti gli altri Carissimi bimbi, c'è arrivato PaninoTube e oggi finalmente cominciamo la nuova stagione di Horror Brawl Finalmente è uscita la stagione di Rod il gelataio, ma che roba, andiamo subito a provarla, è proprio l'ho appena installata in questo momento Non voglio perdere troppo tempo all'intro, ma come sempre, lasciate qui sotto tantissimi like, lasciate i più like possibili Per aiutarmi a supportare la serie di Horror Brawl con la nuova stagione E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi, iscrivetevi al canale, attivate la camperellina Ma adesso partiamo subito, cominciamo, gelataio spaventoso, inizia la stagione 2 Rod Sullivan è arrivato in Horror Brawl congelando tutto e tutti sul suo cammino Ora puoi selezionare il famoso gelataio ice cream come horror e giocare in una nuova mappa Il quartiere DJ, ma che bello, quindi accettiamo qua, ed eccolo qua, guardate chi c'è, guardate lì C'è Rod il gelataio, vediamo pure i personaggi che sono stati aggiunti Ah, non c'è qua, non hanno più aggiunto nuovi bambini Ma qui abbiamo Rodino, vediamo se c'è qualche skin particolare Eccolo qua, Rod il gelataio, quando era piccolo è stato sempre bullizzato a scuola Perché era un bambino grasso, ha pensato a un gioco sinistro per vendicarsi di loro Avvelenarli tutti congelati buonissimi fino a quando non esplodono Gira con il suo furgone, con la musica sparata al massimo Dando il gelato a tutti i bambini del quartiere Fai attenzione a non cadere nell'inganno O potresti subire l'attacco del suo fiato gelido Eccolo qua, Rod il gelataio Ma che roba, ma che roba Tra l'altro ci sono pure i premi giornalieri Quindi andando avanti potete sbloccare poi alla fine questa skin Ritorna domani per ottenere altri premi Stagione 2 E questo è il pass, guardate qua Cioè io volendo posso comprare l'horror pass normale Oppure il pacchetto horror completo Soltanto che adesso non me lo fa vedere Io vorrei vedere qua cosa c'è Ecco qua, guardate C'è già qui una skin Bellissimo, no? Veramente bellissimo questo passo Me lo voglio sbloccare tutto Me lo voglio sbloccare tutto quanto completamente Vediamo nello shop se hanno aggiunto qualcosa Eccolo qui, Roddino caro Eccolo qui Qui ci sono le varie skin, le varie cose Vediamo qua se c'è qualche offerta con Rod il gelataio Qualche skin del gelataio Non c'è niente, non c'è niente Ma che roba Allora, vorrei però vedere qua Se io tocco play Ok, no, vabbè Tocchiamo no grazie Mi fa già partire qua Nella partita con Rod Vediamo qua Mappa scuola e goal school No, no, no Io non voglio fare la goal school Non voglio fare la goal school Esci qua Abbandona, abbandona Ah, di qua Perfetto Ho capito come si cambia la mappa Vediamo qua Neighborhood Andiamo qui dentro Ecco qua La nuova mappa di Ice Cream Andiamo subito in partita Va, tra l'altro Ho pure sbloccato la nuova skin di Jay Quella dove Jay diventa il gelataio Proviamo qua Il quartiere Si comincia Si parte Non vedo l'ora Non vedo l'ora Tra l'altro mi sembra che abbiano pure ridotto il numero di giocatori Perché prima erano 16 giocatori massimo Adesso ho 12 giocatori Vai, vai, vai Andiamo, andiamo, andiamo Di corsa Si comincia Si parte Si parte Pure la schermata di inizio di partita è cambiata E cambiata anche quella Tenetevi pronti Perché su questa nuova stagione Voglio farci una grande serie Che collegheremo poi anche con la saga di Ice Cream Che attualmente è la serie principale del canale Si parte Vai Sono veramente emozionato Sono emozionato Vediamo se già in questa partita riusciamo a diventare Rod Proviamoci Non ne sono sicuro Però vediamo cosa riusciamo a fare Eccoci qua Guardate qua dove siamo Guardate qua No, bellissimo Bellissimo Ok, vediamo le ceste Se c'è qualcosa di interessante Perfetto Abbiamo già un'arma Ok Vediamo qui Devo impararmi poi questa mappa Perché non la conosco Non la conosco Ok Apri qua Vai In questa stagione abbiamo il quartiere di Jay Dove però troviamo anche alcuni elementi degli altri giochi di Ice Cream Come ad esempio Il circo Via, via, via No, no Non voglio shottare nessuno No, no Dai però William Voglio farmi gli affari miei Voglio farmi gli affari miei Voglio registrare qua Lasciami stare Lasciami stare William Sono di qua Sto registrando Fatemi girare Sono pacifico Sono un panino pacifico Quindi per favore Per favore Non voglio Arrecardando nessuno Vediamo qui dentro se si può entrare Sì Mi fa entrare Posso comunque girare all'interno No, no, no Aiuto No, no Aiuto, aiuto, aiuto Non voglio farmi shottare Vabbè ho capito Ho capito Ho capito Ma cosa Ma io ho mandato tutti quei colpi Ma dai Vabbè Dopotutto sono io che ho cominciato a sparargli Dai Ma era quasi alla fine della vita Ma per poco Per poco lo stavo per sconfiggere Gli è mancato veramente Eh vabbè Questa è veramente sfortuna È veramente sfortuna Usciamo qua Va Proviamo a fare un'altra partita Vabbè Grado 10 Sì, sì Ovviamente non sono molto fortunato qui su Horror Brawl No, seriamente Le ultime partite che sto facendo mi stanno andando sempre male Va bene Proviamo a farne ancora qualcos'altro Poi preparatevi perché molto presto Voglio proprio andare a fare qualcosa che va ancora più a fondo Scoprire segreti inediti Che non compaiono nella saga di Ice Scream Li voglio scoprire con voi Quindi Tenetevi sintonizzati Vai Si parte Si parte Di nuovo qua comincio Cos'è questo? Questo è il cimitero Il cimitero dove è stato sepolto Joe del Sullivan Ok Apri qua dentro Vediamo se c'è qualcosa Va bene Abbiamo già una prima arma Un'arma a distanza Adesso posso girare qui intorno Senza farmi colpire Sono pacifico Sono pacifico Fatemi esplorare Voglio soltanto esplorare qui la mappa Cos'è quello? Ah XP Punto esperienza Vabbè Vediamo se dopo riesco a prenderli Va bene Un'arma ancora più potente Allora da come ho capito Si può entrare pure dentro le case Ma non dentro tutte quante le case No 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 Charlie 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 per favore Per favore Sono pacifico Sono pacifico Posso girare Per una volta Che non voglio andare a scontrarmi Contro nessuno Per una volta Lì c'è un Charlie E lì Charlie Però Charlie Io non voglio fare niente Non voglio fare niente Io voglio girare qua Ma che roba Ma che roba Voglio esplorare la mappa La voglio esplorare Giusto per portarvela qui No no Rebecca Lasciami stare Lasciami stare No lasciami stare Via 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 Eh vabbè però Dai ma non è possibile Non è possibile Ma ce la farò qui Ce la farò Girare ad esplorare la mappa Qui nessuno Che vuole farmi esplorare la mappa Però Qui nessuno Va bene Ho capito Allora dovrò mettermi proprio di impegno Shuttare anche gli altri Sì nuovo grado prestigio Non mi interessa Non mi interessa Giochiamo di nuovo Va Giochiamo ancora Però questa volta A quanto pare Non sarò più in modalità pacifica Perché gli altri Poi mi shuttano Gli altri mi shuttano Volevo soltanto esplorare la mappa Visto che il primo video Ci tenevo ad esplorarla E invece no A quanto pare Non si può fare Ma dai Ma dai Ma che roba Vuol dire che comunque È migliorato anche il caricamento Delle partite Beh dopo tutto Ci sono anche meno giocatori Da 16 Ci siamo scesi a 12 Però allora Mi fate esplorare Oh finalmente un nuovo posto Finalmente una nuova zona da vedere E che roba E che roba Apri qua dentro La fionda La fionda Non la voglio la fionda Non la voglio Che poi non capisco una cosa Allora Quando gli altri hanno la fionda Riescono tipo a farmi 3000 danni Quando ce l'ho io Non faccio quasi nulla Ma questa cos'è La casa di Rod Aspettate Ci sono i quadri del mini Rod In questa casa È bellissima È bellissima proprio Allora vediamo qua C'è una cesta Andiamo subito a vedere Che cosa c'è nella cesta Va C'è pure il camion di Nancola Sì Ci riuscirò ad entrare qua dentro Ok Apri qua No dai Su Lasciami stare Lasciami stare Su E che roba E che roba Io voglio esplorare Gli altri giocatori Proprio non ce la fanno Non ce la fanno A farmi esplorare tutto quanto Ok Su Allora Vai Colpito Chi è che mi sta Qualcuno mi sta colpendo da lontano Via 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 Lasciatemi stare Lasciatemi stare Veloci 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 Ok Ho una mela Ho una mela La posso usare per ricaricarmi Quindi la userò Subito Mangia sta mela Mangia 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 Veloce 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 Ok E mangia quest'altra mela Sono su di corsa Di corsa Di corsa Gli ho finito le munizioni Quindi non mi serve più nulla Devo stare per forza con la fionda Ora non più Ora di nuovo le munizioni Ce la farò qui ad esplorare Potrà un povero parino Esplorare la mappa Senza farsi colpire E che roba E che roba E allora Scelto il personaggio J anche per inaugurare questa mappa E invece niente Invece niente Sembra comunque più piccola Questa mappa Rispetto all'altra Quella che c'è Una pietra del caos Aiuto Che che mi sta Dai no no Lasciami stare Lasciami stare Via 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 niente Via niente Ma dai Ma posso esplorare Vabbè Dopotutto sono in un battle royal Quindi Me lo dovrei aspettare Vediamo qualche partita Ma vediamo se qualcuno Riesce a diventare Rod il gelataio Ok Lui è pronto per diventare Rod Lui è pronto per diventare Roddino Vediamo cosa ne uscirà fuori Proviamo a vedere Proviamo a vedere Su su Trasformati Non posso trasformarti io No eh Non me lo fa trasformare Vai di diventare Rod Vai di diventare Il nostro caro Roddino Su su Di corsa Di corsa Niente Non vuole trasformarsi questo Non ne ha proprio la voglia Allora Facciamo una cosa va Tocchiamo esci Visto che questo non vuole No Aspettate Aspettate È proprio ora Vai Vediamo qua È arrivato Rod il gelataio È arrivato Rod Eccolo lì Guardate Pronto per congelare Tutti quanti gli altri Ma guardate Colpisce da lontano Riesce a congelare Da lontano gli altri Ok Ha preso il giocatore Perfetto Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta E adesso Vediamo cosa succede Cioè veramente Guardate Con Horror Brawl Abbiamo la possibilità Di diventare Rod Senza aver bisogno Per forza Della mod Riuscite a scappare Riuscite a scappare Riuscite a trollarlo Per bene È stato veramente Molto molto bravo Vai Rod No Non è più Rod È tornato ad essere Un giocatore normale E adesso Veramente Sono problemi suoi Sono problemi suoi No Eccolo lì Rod Eccolo lì Nostro caro Aspettate Ma proprio la skin del pass Ah la skin del pass E quell'altro giocatore Bellissimo Bellissimo Vediamo cosa riesce a fare Eh sì Però Non lo va a prendere Ok È congelato È stato frizzato Per qualche istante Adesso si è liberato Vediamo L'altro giocatore Mi sa che è tornato Si è tornato normale E niente È riuscito a vincere lui Alla fine È riuscito a vincere lui Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Forse all'ultimo Ok No E ce l'ha fatta È riuscito a vincere È riuscito ad arrivare Verso la fine Vediamo pure qua La fuga com'è Con la nuova mappa Via Verso la libertà È riuscito a farcela E arrivare verso la vittoria Ha vinto Sim Bravo Sim Sei riuscito a vincere Sei riuscito a vincere Va bene Direi di fare una cosa Va riscattiamo qua i premi Tocchiamo Ash Voglio vedere un attimo il tutorial Per vedere se è cambiato Andiamo qua su play Vediamo No 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 Aspettato ho sbagliato Non dovevo andare qua su play Non dovevo andare qua E usciamo 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 Abbandoniamo Sì sì Abbandona Abbandona Andiamo qua su modalità Ah Il tutorial dove l'hanno messo Eccolo qua Tutorial Vediamo se mi fa fare il tutorial Con ice cream Ok Siamo qua All'interno dell'Igole School Siamo tornati qua Perfetto Tocca lo schermo Vai 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 Salta di qua Veloce veloce Sì lo sappiamo in memoria Vediamo cosa c'è nella cesta Perfetto Abbiamo trovato degli oggetti Accovacciamoci Su su Vai qua Acco Accovacciati Ma lo sto premendo il pulsante Oh no 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 Mi hanno sparato Mi hanno sparato Vai Ricarichiamoci Veloce 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 Prendiamo le energie Prendiamo l'arma E shottiamo Chi è che mi ha sparato William William fuori uso Ti stanno sparando Abbattiamo il nemico Veloce 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 Abbatti 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 Si sta trasformando Si sta trasformando È il momento di scappare No è diventato la sua retta Sta diventando la sua retta Via 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 Entriamo qua dentro Vediamo se tramite il tutorial Riusciamo Su entra qua A diventare Rod il gelataio Per questo primo video Eccola lì Sister Madeline È la nostra cara sua retta Ma adesso fra poco Se ne andrà via L'horror non possono scovarti Mentre sei in un nascondiglio E meno male Ci mancava soltanto Che mi scovassero qua Ok possiamo pure uscire Perfetto Adesso sciottiamo Qua chi è Rebecca Questa Su Su Shotta 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 Prendiamo le gemme Via Adesso si Tocca il pulsante centrale Per trasformarti In un horror Siete pronti Stiamo per diventare Rod il gelataio 3 2 1 Vai Ci stiamo per trasformare Nel nostro caro Rodino Ed eccolo qua Siamo Rod il gelataio Gli horror possono vedere E lasciare le tracce Dei Vabbè Degli altri Quando servono Andiamo 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 Vai qua Colpiamo questo Jay C'era un Jay Comunque lì nascosto Vai Siamo Rodino Siamo Rodino caro Sì ho capito Adesso torniamo così Va bene Allora saltiamo di qua Poi ovviamente farò un video Dove cercherò di diventare Rod il gelataio All'interno della partita Vediamo se ce la farò Sicuramente qualche video Lo dovrò fare Adesso stiamo qua Dentro il portale di Nasrat Via 3 2 1 Verso la libertà Sì Vittoria Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta E adesso prepariamoci Qua Vabbè Dopotutto questo era il tutorial Che abbiamo fatto Molto velocemente Ok Quindi Jay Entrerà lì dentro E abbiamo visto Anche qua Le novità che sono state aggiunte Quindi abbiamo visto Parte della nuova mappa Poi più avanti Farò anche dei video Un po' più approfonditi No per cercare un po' Di scoprire meglio I segreti nascosti E quindi che dire Per il momento Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa Ne pensate Spero che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto Mi raccomando Spalliciate Quando vi vedete Iscrivete al canale Con la campanella attiva Noi ci vediamo al prossimo video E come sempre vi auguro Per giornate Per giornate Per giornate Ciao a tutti E buon panino a tutti E buon panino a tutti Ciao a tutti